Paffai, continui a fare gol. Allora, perché vai in Argentina? Perché non continui a stare in Italia a giocare? Sono felice qui, tutti lo sapete che sono felice e non voglio parlare del mio futuro, perché io ho parlato e devo riferire il momento questo che è unico e niente di più. Sta dando, diciamo che finché rimane qua sta dando il massimo di acqua a dare, questo aumenta l'impianto ma aumenta anche la passione e la gravità delle medicosi più ventili.